La base in alta definizione e senza intedizioni al numero a destra nel video. Trova il tuo genere preferito cliccando su Playlist. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Grazie a tutti. Ricorda che la qualità delle basi che ti invierò è molto superiore a questa demo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Richievi la base in alta definizione e senza intedizioni al numero a destra nel video. Trova il tuo genere preferito cliccando su Playlist. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Grazie a tutti. Ricorda che la qualità delle basi che ti invierò è molto superiore a questa demo. Grazie a tutti. Clicca sulla parola altro sotto al titolo per ascoltare le altre versioni di questo brano. Richiedi la base in alta definizione e senza intedizioni al numero a destra nel video. Trova il tuo genere preferito cliccando su Playlist. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Grazie a tutti. Ricorda che la qualità delle basi che ti invierò è molto superiore a questa demo. Clicca sulla parola altro sotto al titolo. Per ascoltare le altre versioni di questo brano. Richiedi la base in alta definizione e senza interruzioni al numero a destra nel video. Trova il tuo genere preferito cliccando su Playlist. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.